Quando partì Noè, portò via gli animali, salvò due vecchi amici, tre giunte comunali. Quando partì Noè, con tutti i familiari, sei chili di caffè, due uffici immobiliari. E allora accadde che quando Noè partì, conosco un deputato, in chiesa sono stato. E allora accadde che quando Noè partì, le case popolari li ha lasciate tutti lì. Quando partì Noè, c'erano i nivoloni, una moglie di Gegè, con tutti i maconi.